Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati sul mio canale, voglio farvi vedere quanti colori ci sono nel mondo, ecco qui, per intenderci vado con calma, guarda quanti colori ci sono, l'ho scoperto oggi, sapevo che ce n'erano tanti ma non immaginavo così tanto, vado con calma, e poi alcuni non sono neanche italiani, ecco, guardate quanti sono, ecco, siamo arrivati alla fine, ciao